Arrivano dalla Regione Emilia-Romagna 241 milioni per l'agricoltura. Sono 56.000 le domande pervenute per far fronte alla nuova annata agraria. Anticipi previsti dalla PAC, la politica agricola comune europea, rese disponibili da Agria, l'Agenzia regionale per l'erogazione in agricoltura. Di 56.000 richiedenti, 41.000 si sono visti a accettare la domanda. 5.200 i beneficiari della provincia di Ravenna, verso la quale verranno indirizzati 23 milioni e mezzo di euro. Il fatto di avere un'agenzia di pagamento molto efficiente ci permette ogni anno di fare più di 177.000 mandati di pagamento che hanno riguardato oltre 56.000 domande. Devo dire che dal nostro punto di vista avere questi servizi è un grande valore aggiunto per le nostre imprese. Le imprese agricole in Emilia-Romagna sono alla base delle grandi filiere delle DOP e alla base di un agroalimentare che impiega 300.000 persone ed è la seconda fonte di PIL della regione. Efficienza alla base è fondamentale. Questa iniezione di liquidità fatta anche con gli anticipi PAC nell'ultimo mese e mezzo è stata molto apprezzata dagli agricoltori. Sì, sugli anticipi dello sviluppo rurale noi siamo sei mesi avanti agli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Questo ci permette sostanzialmente di stare tranquilli sul fatto che non corriamo nessun rischio, che i nostri agricoltori sono stati pagati in base a verifiche che sono perfette, che di conseguenza non dovranno temere di dover restituire nulla e soprattutto che la macchina dello sviluppo rurale ormai sta arrivando a compimento. Noi abbiamo già messo a bando il 98% delle risorse e abbiamo già fatto appunto pagamenti molto superiori agli obiettivi. Stiamo pagando, abbiamo pagato appunto oltre quasi 600 milioni di euro in tutto sullo sviluppo rurale. Ogni anno noi paghiamo 600 milioni, la coincidenza del cifre è casuale, tra gli anticipi PAC, lo sviluppo rurale e l'OCM. Quindi un lavoro immenso che viene fatto grazie a una sinergia con i centri di assistenza agricola che ci danno una gran mano e con i nostri lavoratori di Agrea che sono molto bravi. Abbiamo fatto questi anticipi, tra l'altro una misura maggiorata rispetto alle norme di base perché purtroppo per ragioni climatiche o di avversità è stato necessario cercare di aiutare al massimo le aziende. In questi casi l'Unione Europea dà la possibilità di aumentarli e quindi noi siamo arrivati a dare il 75% dei fondi del primo pilastro e l'85% dei fondi del PSR come anticipo. Questo naturalmente è un grosso aiuto per l'impresa in questa fase perché da questo dipende anche la loro condizione finanziaria. Diciamo che abbiamo garantito il massimo dei pagamenti, abbiamo fuori un migliaio, come dicevo, di posizioni che sono posizioni che necessitano di essere seguite attentamente perché ci sono delle discrepanze e ci sono dei problemi tecnici. Io ho sempre amato fare la distinzione tra la burocrazia e le regole. Ci sono delle regole precise che le aziende devono seguire perché vengono compensate per il fatto che fanno biologico ad esempio e di conseguenza bisogna verificare che tutte le superfici che noi paghiamo siano effettivamente a biologico. Questo a tutela di tutti i cittadini che con le loro tasse danno una mano a ottenere questi fondi ma soprattutto anche a tutela delle imprese che così sono tranquille e che nessuno gli andrà mai a chiedere indietro dei fondi non dovuti.